video ripreso in full hd a 60 fotogrammi per secondo con lenovo moto g5 plus andiamo a fare subito un ban veloce messa a fuoco istantanea ritorniamo ancora messa a fuoco istantanea naturalmente autofocus andiamo a fare un controluce e ritorniamo qualità adeguata forse anche superiore rispetto al 4k per questo full hd a 60 fotogrammi per secondo siamo estremamente soddisfatti